Tragico investimento in via traversa del crocifisso all'altezza dell'ingresso delle cascine di tavola, un ciclista cinese morto travolto da una Mercedes condotta da un suo connazionale. È successo attorno alle 17 di oggi, immediato all'allarme al 118 che ha subito inviato sul posto un'ambulanza con il medico che ha fatto intervenire anche l'elisoccorso. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato niente da fare, i soccorritori si sono dovuti arrendere dopo aver tentato ogni manovra reanimatoria. Pegaso è quindi ripartito vuoto. La Polizia Municipale, intervenuta insieme ai carabinieri, ha chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e poi per effettuare rilievi di legge che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente e ad accertare le responsabilità. A giudicare dai segni sulla carrozzeria l'impatto è stato frontale e il giovane ciclista sbalzato dalla sella ha fatto un volo di qualche metro fino all'impatto con l'asfalto.